come sono andati i giocatori dell'Inter tra gli europei e in Coppa America amiche amici interisti amiche amici di passione Inter ben ritrovati campioni d'Europa ben ritrovati buon inizio di settimana clima di festa chiaramente oggi si studia si lavora o ci si riposa in base a quello che ognuno di noi ha da fare ma sempre con un bel sorriso stampato sul volto dopo la grande grandissima vittoria dell'europeo da parte della nostra nazionale da parte dell'Italia il trionfo in casa dell'Inghilterra con tutto quello che era il clima con cui arrivavamo alla partita e con cui si è disputata questa grande finale una soddisfazione enorme un successo veramente clamoroso perché perché eravamo convinti della nostra forza all'inizio di questo europeo di sicuro sapevamo che come gruppo questa Italia poteva andare molto lontano però sulla carta c'erano altre formazioni più accreditate quindi questa squadra ha fatto qualcosa di veramente straordinario questo allenatore commissario tecnico Roberto Mancini ha fatto qualcosa di veramente straordinario parleremo di questo trionfo chiaramente in questi giorni e per diversi giorni nelle nostre dirette quindi vi consiglio di seguirci su YouTube di iscrivervi al canale YouTube di iscrivervi al nostro canale Twitch siamo in diretta tutti i giorni su Twitch dalle quattordici alle quindici da lunedì al sabato su YouTube tutti i giorni dalle diciannove e trenta e poi di nuovo in serata su YouTube dalle ventidue alle ventitre e trenta tutti i giorni tranne il sabato queste le coordinate in questo episodio parliamo di Inter ma in tema nazionali chiaramente visto il clima di giornata e quindi come dicevo andiamo a valutare insieme come sono andati i giocatori dell'Inter impegnati eh agli europei in totali sono dieci quelli che sono scesi in campo e in Coppa America dove sono stati impegnati invece quattro interisti lo facciamo chiaramente come sempre con il nostro tier maker che so che vi piace tantissimo condivido lo schermo eccoci qua pronti con il nostro tier maker 14 calciatori abbiamo inserito parto dal primo vado in ordine ed è il primo Cianoglu un neo interista ha iniziato l'europeo non da calciatore dell'Inter lo ha concluso con una prestazione sicuramente non positiva perché ha giocato tre partite da titolare un solo assist per Caveci nel KPO per tre a uno con la Svizzera molto deludente così come tutta la Turchia devo dire quindi prestazione eh non positiva sono indeciso ecco eh non vorrei essere troppo cattivo quindi anziché c'era anche lui mettiamo come delusione quindi eh non sufficiente il suo rendimento di sicuro speriamo che l'Inter possa fare meglio Lukaku invece quattro gol segnati è stato leader secondo me di questo Belgio che si è eh arreso imbrigliato diciamo da un'Italia che contro il Belgio per me ha fatto la più bella prestazione a livello di di maturità contro un avversario sulla carta superiore eh Lukaku lì non ha brillato però ha eh segnato comunque due volte eletto migliore in campo per me merita ecco di di stare nei top quindi inserisco Lukaku come primo interista nei top eh De Frey record di palloni recuperati in quella che è stata la fase a gironi dell'europea ha stabilito questo primato tra tutti i calciatori impegnati quattro gare da titolare con l'Olanda contro l'Ucraina devo dire un po' sbandato come tutta la difesa olandese poi però ha preso le misure contro l'Austria e ha fatto bene contro la Repubblica C'è che è arrivato all'eliminazione a questo europeo a differenza di De Ligt lui si è tenuto a galla secondo me diciamo che con una nazionale migliore più equilibrata e delle colpe all'allenatore vanno date eh avrebbe fatto meglio però di sicuro l'europeo di di De Frey è stato positivo così come tutta la sua stagione eh sono indeciso tra buono e sufficiente direi che può andare anche eh sul buono con un sei e mezzo pieno in questo europeo Skriniar Skriniar è partito fortissimo protagonista e gran gol decisivo nella vittoria sulla Polonia poi però la Slovacchia ovviamente non era favorita nel girone anzi ha perso eh con la Svezia cinque a zero con la Spagna molto pesante quindi l'europeo di Skriniar secondo me si può considerare sufficiente si è comunque ormai da tempo guadagnato il ruolo di uno eh dei leader di questa squadra che però ecco eh resta una nazionale non candidata chiaramente almeno per il momento ad essere protagonista in un europeo Lazaro rientrato per il momento all'Inter ma potrebbe essere un ripartente anzi sembra essere di nuovo in partenza eh eravamo curiosi di vederlo con l'Austria invece è stato frenato ancora una volta dagli infortuni una partita in panchina la prima poi venti minuti eh nel K.O. contro l'Olanda e quindi out per infortunio muscolare quindi ci viene da chiederci ma c'era anche lui a questo europeo lo mettiamo proprio in questa categoria del tier maker Bastoni il nostro Bastoni prendiamo il primo nazionale azzurro eh pensavo che sarebbe stato più coinvolto sinceramente in questa nazionale invece è disputato solo eh novanta minuti giocando tutta la partita contro il Gallas a qualificazione già acquisita da lì eh a parte il Gallas solo panchina però ecco vabbè l'allenatore che vince ha sempre ragione partiamo da questo presupposto di sicuro sarà protagonista al mondiale tra un anno il nostro Bastoni e quindi per la nazionale secondo me avere una nuova generazione che sale così eh è molto molto importante però ecco tra qualche anno ripensando a questo singolo europeo ci diremo ma c'era anche lui e per Bastoni sarà comunque una una sorpresa è stata un'esperienza molto importante dal punto di vista delle prestazioni non ha inciso ma lo farà di sicuro al mondiale almeno questa è la mia previsione Marcello Brozovic quattro presenze con la Croazia una soltanto per pochi minuti quindi ha messo solamente la firma se non sbaglio in tre o quattro minuti a fine gara la Croazia ha un po' deluso almeno io me la sarei aspettata più avanti eh in questo europeo Brozovic non è stato negativo però non lo promuovo diciamo che è stato per me un cinque e mezzo più o meno come voto per Marcello Brozovic e considerando che la squadra mi ha deluso ne risente anche la sua votazione quindi tenderei a metterlo in delusione mh però ecco non vorrei essere troppo cattivo ecco eh passatemi la delusione ma con l'asterisco meglio di Cernanoglu secondo me comunque Marcello Brozovic ma va lì eh c'è stata un'eccezione nella Croazia a livello di delusioni perché sicuramente Ivan Perisic l'altro interista ha fatto un ottimo europeo sicuramente tra i migliori della Croazia frenato purtroppo dal covid nella fase di ad eliminazione diretta quindi ha saltato non ha potuto disputare gli ottavi eh nei gironi ha giocato sempre da titolare due gol ed un assist è stato eh fondamentale quindi nel passaggio del turno e per le partite che ho potuto vedere della Croazia nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 secondo me ha dato dimostrazione di essere ancora un ottimo calciatore quindi da esterno offensivo prestazione per me in questo europeo da top devo dire anche se ecco il la deludente Croazia porterebbe a schierarlo un po' sotto però lui individualmente a me è piaciuto molto e e inzaghi ha detto anche di essere convinto di poter fare grandi cose con lui all'inter quindi vedremo se questo europeo potrà ulteriormente rilanciarlo anche nell'inter dopo l'ultima stagione in cui alla fine si era preso la titolarità eh Mattias Vessino andiamo in Coppa America non una Coppa America indimenticabile perché l'Uruguay ecco non ha giocato bene solo due vittorie contro la Bolivia ed il Paraguay è stato poi eliminato il l'Uruguay ai calci di rigore dalla Colombia Vessino non è stato appariscente ha dato sostanza eh direi che si può piazzare nei sufficienti un un sei eh che ci può stare secondo me non non di più di sicuro ecco un sei forse un sei meno però siamo lì eh Lautaro invece voto decisamente molto più alto per Lautaro Martinez è l'altro interista che così come Barella di cui parleremo tra poco e bastoni e anche Uriali ecco chiaramente c'è anche in questa nazionale la sua firma eh ha potuto festeggiare un trofeo continentale dopo aver vinto lo scudetto quindi a ventiquattro anni Lautaro Martinez ha dimostrato secondo me anche in questa Coppa America di eh essere entrato ormai in una categoria di calciatori superiori ecco l'aria si comincia a fare rarefatta così in alto e cominciano a non essercene tantissimi nella stessa categoria di calciatori in cui troviamo Lautaro Martinez ha sbagliato alcuni gol abbastanza facili eh non ha fatto bene in alcune occasioni la finale contro il Brasile non bene e non solo però tre gol segnati ha segnato ai quarti ha segnato in semifinale ha trasformato pure il rigore con la Colombia ormai è un titolarissimo dell'Argentina direi che per lui almeno secondo me può essere non dico una consacrazione però di sicuro può essere ehm il torneo la Coppa America diciamo dell'ulteriore consapevolezza e quindi direi che Lautaro Martinez può andare decisamente tra i top di queste competizioni Barella il voto di Barella l'europeo secondo me è un sette e mezzo questo è il mio voto per Barella fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo eh ha avuto dei passaggi a vuoto colpa anche secondo me di tanta tantissima anzi stanchezza accumulata durante una lunghissima stagione in cui ha dato veramente tutto un po' di nervosismo mi viene in mente soprattutto contro l'Austria però anche prestazioni spettacolari come contro il Belgio la Svizzera eh ha messo a segno un gol e due assist sarebbero potuti essere anche di più se si fosse se gli attaccanti avessero sfruttati un pochettino meglio però eh sono un deciso tra il buono e il top diciamo considerando però che si è vinto l'europeo direi che merita eh un qualcosina in più anche per aver fatto parte della spedizione quindi lo metterei sicuramente nei top dopo dopo essere stato il top della stagione dell'Inter perché su Passione Inter i nostri utenti lo hanno votato come MVP of the year miglior calciatore eh della stagione secondo gli utenti di Passione Inter. Vidal andiamo in chiusura eh non bene si conferma sicuramente una stagione da dimenticare per il centrocampista Cileno un rigore sbagliato un autogol un po' di sfortuna quindi per Arturo Vidal arrivata all'eliminazione in quarti per il Cile purtroppo direi quindi eh per Vidal una delusione c'era prima Alexis Sanchez che allora eh votiamo adesso Alexis Sanchez anche lui eh un altro infortunio purtroppo di fatto la sua Coppa America è durata soltanto eh quarantacinque minuti quelli giocati contro il Brasile partite in cui tra l'altro ha avuto una piccola ricaduta e riuscito per un nuovo infortunio perché avrebbe anche forzato un po' i tempi per recuperare mi dispiace veramente tantissimo perché dovrà essere importante per l'Inter Sanchez in questa stagione invece i problemi continuano e quindi direi che anche Alexis Sanchez merita di finire nella categoria c'era anche lui in questa Coppa America con il punto di domanda chiudiamo con una menzione d'onore per Christian Eriksen ovviamente oggi è un mese esatto dal da quel giorno tristissimo di grande paura a Copenaghen l'europeo anche qui di Christian Eriksen è durato solo quarantadue minuti purtroppo le diciotto e quarantadue di quel sabato dodici giugno che tutti ricordiamo eh sarà una frase fatta però Eriksen ha vinto la partita più importante per perdonatemi questa banalità però il calcio è passato in secondo piano la Danimarca ha sfiorato l'impresa onorando il suo leader fino ai supplementari portando fino ai supplementari eh l'Inghilterra in semifinale eh speriamo adesso possa riprendersi quanto prima speriamo per lui possa tornare a giocare o comunque gli auguriamo innanzitutto di poter vivere al meglio la sua vita anche al di fuori del calcio ed è quello che più conta nei prossimi giorni ne sapremo di più intanto io per Eriksen gli dedico una menzione da top eh perché se la merita dai nei nei top senza tanti senza tante discussioni e e speriamo di rivederlo fare magie in campo questi erano i miei giudizi quindi sugli interisti che comunque sono stati grandi grandissimi protagonisti e hanno segnato pagine importanti di questa estate di competizioni internazionali dopo essere stati protagonisti con la vittoria dello scudetto alcuni di questi eh non tutti perché c'erano Lazzaro non c'erano eh avrebbe meritato secondo me un posto anche Stefano Sensi che purtroppo però si è fatto male prima della spedizione quindi non è stato convocato in questa nazionale speriamo anche lui possa recuperare per eh questa stagione scrivetevi nei commenti quali di questi calciatori interisti vi sono piaciuti di più che voto dareste all'europeo di Barella come vi chiedevo poco fa e poi se avete seguito l'episodio fino a qui mettete ovviamente l'emoji della bandiera italiana perché oggi è assolutamente d'obbligo ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di seguire Passione Inter anche su Twitch Grazie a tutti